Che cos'è che ha legato tanto i discepoli a Gesù? Quando tutti lo hanno abbandonato, come mai i dodici sono rimasti attaccati a lui fino alla fine? Si potrebbe dire che sono stati miracoli a tenere così strettamente legati i discepoli a Gesù. Ma se fossero stati i miracoli anche la gente sarebbe rimasta a lui legata. Credo veramente, ne sono convinto, che sia stata la grande umanità, la profonda umanità di Gesù in tutto quello che faceva. Una umanità incredibile per loro e certamente ogni volta si saranno chiesti ma chi è costui? Chi è quest'uomo? Dunque abbracciava un lebroso, sanava un cieco, faceva risuscitare un morto. Ma non solo questo, soprattutto poi stava a pranzo, a cena con tutte le persone che lo invitavano. E quindi è questa profondissima umanità che certamente l'avranno vista al massimo nell'ultima cena. Si saranno ricordati allora di quanti pranzi e quante cene ha fatto con tanta gente. E lì in quel momento dell'ultima cena, lì avranno capito che Gesù dava proprio tutto. Lo dava agli altri, lo dava perfino a Giuda e quindi era la consegna della misericordia infinita sua verso ogni persona umana. Dunque è questo per quanto riguarda quel miracolo continuo della sua profonda umanità. Tanti miracoli, ma quello ininterrotto della sua umanità era da qui che loro hanno intravisto la divinità, il divino. Poi potremmo passare immediatamente al grandissimo, unico miracolo della risurrezione. Questo però i discepoli lo hanno visto dopo, prima, sono rimasti colpiti appunto da questa grande umanità. Bene, quando però hanno incontrato il Signore risorto, è lì che si sono trasformati radicalmente. È lì che hanno visto il mondo nuovo. È come se ci dicessero Hanno inventato una pastiglia qualunque, un farmaco qualunque, che guarisce da tutte le malattie. Saremo tutti in fermento, andremo tutti a raccoglierla e a pagarla. Bene, loro hanno proprio visto questo. Tant'è vero che poi, quando racconteranno le vicende di Gesù, intenderanno sempre parlare di questo grande miracolo. Tutti i piccoli miracoli sono un commento, sono sotto la luce del grande miracolo della risurrezione. Immagino, e così mi piacerebbe soffermarmi su questo, il miracolo di Gesù che risuscita il figlio della vedova di Naim. Si dice che era figlio unico di madre vedova. Ebbene, come si fa a non vedere la cena della croce, dove anche c'è un figlio unico che muore e anche c'è una donna, una madre vedova, perché Giuseppe era già morto. Era come se Gesù volesse in anticipo dire a sua madre, donna, non piangere, perché io risusciterò, tu mi riavrai risorto. Ecco, questa è una cosa splendida e fa capire le ricchezze che ci sono nei Vangeli. L'ultima cosa che vorrei raccontare per alludere un po' a questi miracoli dei Vangeli, che quando Gesù, prima di morire, lancia quel grido impressionante Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, questo naturalmente è un tratto non comprensibile dalla ragione umana, però c'è un esempio nella vita dove si può capire, si può intuire perlomeno la grandezza di quel momento. Quando un bambino, una creatura, sta per nassere, è ancora nel grembo della madre e sta per nassere, se potesse parlare a sua madre, che cosa direbbe? Direbbe, mi sento soffocare, mamma, perché mi butti via, perché mi butti fuori, perché mi abbandoni? Ecco, noi sappiamo bene qual è il risultato e anche qual è il risultato della crocifissione di Gesù, e quindi la grandezza di quello che viene dopo nella risurrezione. Ecco, questi sono alcuni suggerimenti per indicare il pregio, il valore del Vangelo. Quanti libri sono stati scritti sui Vangeli? Va bene così, ma importante è soprattutto leggere il Vangelo.